Scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in una zona rurale di Piazzolla di Nola, una fabbrica clandestina di artifici pirotecnici. In particolare i finanzieri del gruppo di Nola, nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato una manifattura di fuochi d'artificio altamente performante, in piena attività produttiva, dato il periodo. All'attore dell'accesso le fiamme giallo hanno rinvenuto numerosi macchinari, oltre una tonnellata di artifici pirotecnici pronti per essere immessi sul mercato, migliaia di prodotti utili per il confezionamento e quasi 5 quintali di polvere pirica. Tra i botti sequestrati molti avevano marchio CEA e contraffatto, altri erano confezionati con la stritta DIOS e con i colori della nazionale argentina. Anche gli esami sul materiale sequestrato effettuati con l'ausilio di personale specializzato dell'esercito hanno confermato una composizione particolarmente instabile, pericolosa e altamente esplosiva della polvere pirica. L'intervento dei finanziari ha così potuto scongiurare una potenziale tragedia, tenuto conto che la produzione clandestina avveniva in totale dispregio delle severissime misure di sicurezza del settore. Arrestati tre responsabili per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente, tutti originali della provincia di Napoli.